Allora, si sente? Yes. Allora, buongiorno e benvenuti. Io sono Michele Bugliesi, il presidente della Fondazione di Venezia e del Museo. Ora, è uno degli eventi delle rassegne che organizziamo al museo in relazione agli eventi espositivi che abbiamo, e in generale alla discussione, al racconto del contemporaneo, per comprenderlo, per capirne i risvolti che il museo svolge nell'interesse della comunità a cui si rivolge la comunità locale. Oggi abbiamo con noi una persona che non ha bisogno di essere introdotta, ma io la introduco lo stesso, è da Giulio Sapelli, che appunto conoscete sicuramente, ma vi do il profilo di una persona che ha una lunga frequentazione con i temi che interessano questo museo, che fanno parte di tutta la nostra storia recente del presente e delle proiezioni dell'immediato e del più lontano futuro. E' uno storico economico laureato a Torino, ha insegnato e svolto attività di ricerca in vari luoghi del mondo, tra i quali la London School of Economics, Barcellona, Buenos Aires e poi ordinari di storia economica alla Statale di Milano. Questo ha il suo profilo accademico, ma ha la sua personalità e caleidoscopica, ha fatto davvero tante cose. È stato ricercatore e consulente di una quantità di società delle più importanti in Italia, certamente Olivetti, Fiat, Telecom Team, Agipetroli, Finmeccanica, Barilla, Eni. Ha fatto parte di comitati scientifici dell'ENI, di ISVE, di Ferrer Meccanica. Poi ha un altro profilo più specifico di ricercatore all'interno di fondazioni, la fondazione Enrico Mattei, è stato direttore scientifico della fondazione Gian Giacomo Feltrinelli, componente dell'International Board dell'Ox, per il No Profit. È stato presidente e consigliere di amministrazione anche di molte importanti società, una fondazione di origine bancaria, consorella della Fondazione di Venezia, Monte dei Paschi di Siena, commissario, poi consigliere di amministrazione di Eni, di Unicredit. Insomma, un'esperienza molto articolata, che gli ha dato profonda conoscenza dei processi e dei fenomeni, di cui ha scritto in maniera diffusa, ampia e a lungo, con una quantità di pubblicistica accademica e divulgativa, editoriale. Ha scritto sull'impresa, le gioie dell'impresa, l'elogio dell'impresa, scusate, di storia economica, che è il suo campo specifico, l'intreccio tra economia e politica, l'intreccio tra economia e democrazia, la geopolitica e, non ultimo, il capitalismo. Oggi ci parla del capitalismo e perché non ci piace, o come ci dirà quali sono i suoi elementi distintivi. È un grande piacere averlo qui con noi, accogliamolo con un applauso. Come si dice, the floor is yours. Innanzitutto vi ringrazio molto, grazie per avermi invitato e mi è stato piacere essere qui in un'istituzione di questo tipo che lavora per la public history e per lo sviluppo delle energie e delle forze sociali locali, in questo magnifico auditorio, in questo magnifico luogo che ti riaccendi di una nuova speranza. Veniamo al punto. Mi sono appunto confrontato con i gentili amici che mi hanno invitato, dato che il tema è vastissimo. Ho tracciato una piccola mappa geografica di quello che vorrei dirmi in questa 40 minuti di conversazione, che spero a cui seguo una conversazione con loro. Che cosa sia il capitalismo? L'abbiamo scoperto durante la pandemia, durante quella che una grande antropologa Mary Douglas chiamava la paura della contaminazione della morte. E' quello che diciamo che è la novità di questi ultimi anni, non è stata tanto la crisi del 2007 e 2008 che ha aperto davanti a tutti, quali sono gli effetti devastanti dell'economia a eccesso di leva finanziaria e da multipli, che tra un piccolo battito dalle in Thailandia, il ritiro degli investimenti stranieri per un aumento delle tasse del 4% ha fatto venire giù un muro di investimenti etero diretto finanziario, però che si è via via come un sasso che getta in uno stagno e si è propagato in tutto il mondo. No, la cosa fondamentale è che abbiamo scoperto che l'economia, l'economia capitalistica mondiale, quello che gli stupidi chiamano la globalizzazione, come se l'interdipendenza e la centralizzazione capitalistica sia una cosa nuova, è veramente sconfortante per uno che ha sempre riflettuto sulla storia economica, comprendere immediatamente che la gente dimentica che l'interdipendenza economica, statistiche di Madison disponibili, grandi e il statistico mondiale, morto nel 2004, ma che ha lavorato tutta la vita su questi dati macro, l'interdipendenza economica che esisteva prima della fine della prima guerra mondiale era molto più alta di quella che c'è oggi, il cambio di merci e il cambio di investimenti di capitali. Perché? È alimentare Watson, perché con la fine della guerra mondiale crollano i grandi imperi, crolla l'impero oltrungarico, crolla l'impero zadista, viene sottildito un altro impero, che è l'impero sovietico, non crolla l'impero britannico, ma crolla la capacità che aveva di governare tutto il mondo perché emerge un altro impero molto diverso che si fonda non solo sulla dislocazione dei capitali, ma soprattutto sulla dislocazione puntuta e puntuale delle forze militari in tutto il mondo, gli Stati Uniti d'America. E quindi emerge una quantità di monete nazionali pazzesca. Questa è una delle tante cause, oltre all'eccesso di sovrapproduzione, che produce ogni guerra, che ogni guerra crea un capitalismo monopolistico di Stato orientato alla guerra, il mondo compresso militare e industriale, che fa crescere l'economia, aumenti dal debito pubblico, perché i profitti di guerra sono privati, ma gli investimenti sono pubblici, perché sono fatti praticamente dagli Stati. E quindi, pensate che la crisi del 1929, questo mondo così interdipendente, Harcroft, un grande libro che esce nel 1936-1937, dimostra che negli anni tra le due guerre fino al 1945, il 40% dello scambio mondiale avveniva tramite baratto, e non tramite la circolazione merce e denaro-merce. Quindi, quello che è ripresa oggi, cioè la centralizzazione capitalistica, cioè l'unione dei vari capitalisti, è un fenomeno antichissimo, antichissimo, che oggi però è apparso a tutti quando la pandemia ha interrotto la circolazione capitalistica. Abbiamo scoperto che il capitalismo è un sistema di relazioni personali, fondato sul lavoro delle persone. Non come dice la teoria neoclassica, i famosi bocconiani, coglioni, cioè, o quelli della Luise, eccetera, sull'investimento dei fattori produttivi, no, su quello che si estrae dal lavoro umano, da cui la teoria di Marx, che era di Smith, e prima soprattutto del grande, è dell'uomo che ha fondato la scienza economica, che è David Maria Riccardo. Tutto il mondo oggi si comprende leggendo Riccardo. Se uno legge Riccardo, capisce tutto. Certo, deve metterci del suo, deve metterci i cambiamenti, ma le teorie economiche sono tutto lì. Oggi, purtroppo, che nell'università non si insegna più storia del pensiero economico, chiedete un nuovo laureato in economia, che è Riccardo, dato che oggi si chiamano tutti per nomi, che pensa che sia un suo amico, Giovanni, Giulio, e quindi il capitalismo è un insieme di relazioni umane fondate sulla propria azione del plus lavoro. Cioè, si ricava una quantità da questo lavoro che produce delle merci, entrano in circolazioni, in un sistema di prezzi, che non ha nessuna relazione sul loro valore. Il valore è quello che, è il lavoro che gli ha dato, questo valore, nel capitale sociale, e naturalmente i prezzi sono sempre inferiore al plus valore che il capitalista della vendita trae da questo lavoro, e di lì si crea una macchina che genera profitto. Naturalmente, noi oggi siamo abbacinati da questa cosa, non lo vediamo più, salvo quando c'è la pandemia, quando arriva la morte, o la o la paura della contaminazione, come chiamava Mary Douglas, che classificava le varie società in base a come trattano la purezza, no? Il problema della purezza, il problema della società, oggi noi l'abbiamo scoperto, oggi, no? Dall'alimentazione, oggi è una società dominata dalla necessità di avere la purezza. Il culto del corpo, il culto che si deve mangiare delle cose pure, in fondo, no? Diciamo, abbiamo dei sistemi sociali fondati sulla purezza, le caste indiane, cosa sono queste, poi fondamentalmente. Bene, il capitalismo è questa cosa qui, che, come scrivevano Marx e Dengler nel manifesto del Partito Comunista nel 1948, ha una forza travolgente di creazione, di nuove opportunità e distrugge via via gli antichi legami sociali. Però, è arrivata adesso una novità, qual è la novità? Che, come dicevano i due, due vecchi, Marx e Dengler, e come poi genialmente reinterpretò il manifesto, quello che è un grande economista, che è Schumpeter, Capitalismo, socialismo e democrazia, è un libro di un'attualità sconvolgente. Noi abbiamo avuto un grande economista italiano, uno dei miei maelti, Claudio Napoleoni, che ha dato di Schumpeter, forse, di Economic Cycle, l'interpretazione più originale, che capitalismo è nato in questi ultimi anni? Un capitalismo che sempre più ha unito la necessità di accumulare all'accumulazione allargata, come diceva Rosa Rousseau nel suo libro famoso, l'accumulazione allargata è giunto in ogni dove, perché lo sviluppo delle forze produttive è tale, è tale, che si creano un'infinità di merci e di opportunità di relazioni economiche che bisogna creare continuamente nuovi consumatori e nuovi produttori perché esso non cada nella cosiddetta crisi di sottoconsumo che ci sia per solare. Voi avete visto questa cosa straordinaria che è già stato recentemente gli indiani sono arrivati sulla luna, no? Era commovente se guardavate questa, queste rubriche che hanno fatto alla televisione, no? Queste sale di controllo che forse come siamo noi messi qui erano in maggioranza giovani e donne, no? Cioè, una nuova entrata di nuova forza lavoro altissimamente qualificata che cosa segna? Beh, segna l'entrata nella circolazione mondiale del capitale di un nuovo soggetto che è l'India. Infatti il futuro non sarà della Cina, la Cina è già finita, io sono a decina d'anni che lo dicono, è già spazzatura, è solo leva demografica quello che c'è lì. I grandi protagonisti saranno l'Indonesia, l'ISA, l'India e l'Africa. L'Indonesia sono 450 milioni di musulmani moderati, un grande sviluppo capitalistico. L'India è la più grande democrazia del mondo, 300 partiti, molte donne che sono a capi di Stato di 50, 60 milioni intoccabili. Il 70% del Parlamento è fatto da Dalit, cioè da un capitalismo diffuso nell'agricoltura. E poi soprattutto l'Indonesia che si avvia grazie alla stabilità politica e alla rielezione due volte di Vidodo che è uno degli esponenti del nuovo capitalismo. Che cos'è l'essenza del capitalismo? È che deve riprodursi continuamente. E questo naturalmente che cosa ha portato? Ha portato a delle nuove formazioni capitalistiche. Per esempio il capitalismo cinese non esiste. La Cina entra nel Doviu Tion nel 2001. Perché entra? Perché c'è una leva demografica che il capitalismo finanziario americano deve penetrare e deve usare. E soprattutto il capitalismo teutonico. I tedeschi hanno sempre avuto io quando ero giovane avevo appena lasciato la Livete nel 71 era l'Istitut für Verdi Schaff di Kiel venne da noi a trovare i giovani ricercatori io capivo malissimo il tedesco mio collega brasiliano invece lo parlava correttamente come in molti paesi dell'elite dell'America Latina c'è una grande tradizione i rapporti con la Germania Cile e Brasile soprattutto grazie all'esercito in primo luogo. Egon Schell diceva ma vedi noi i nostri confini sono a Pechino cioè non solo la Russia voglio dire la storiografia americana ha dimostrato ormai assolutamente che la ricostruzione della Wehrmacht dopo il congresso di Versailles che vietava alla Germania di ricostruire un esercito si fa in accordo con Stalin nella Siberia Sovietica no? di modo che sono pronti poi dopo a dare l'assalto assieme come comprova esattamente il patto Ribbenton-Molotov del 1989 alla Polonia spartirsela e dare l'assalto a chi? finalmente vendicarsi di chi aveva sconfitto la Russia zarista ma i bolshevici erano poi dopo dei seguaci della Russia zarista il Giappone che aveva sconfitto la Russia nel 1905 e lì è una cosa interessante di cui non sa nessuno non pensa nessuno come il capitalismo si centralizzava quindi questo è il capitalismo un sistema che cerca la centralizzazione la firma del trattato di pace russo-giapponese si fa negli Stati Uniti d'America nel 1905 che gli americani vogliono allora cosa vi voglio dire il capitalismo è una macchina stavo per dire da guerra formidabile che cerca la centralizzazione perché vuole unificare i capitali l'industria tedesca ha creato l'industria cinese senza l'industria tedesca l'industria basso-corto cinese che ha sventagliato i suoi prodotti a bassissimo costo e ha indotto il capitalismo americano a tirare su le barriere però questo ha impoverito la classe operaia bianca americana e ha dato vita a quello che poi è arrivato anche in Italia il neonazionalismo di massa il neonazionalismo di massa che chiamiamo di destra ma una destra molto diversa da quella classica perché la destra di una volta era stato stato corporativo centralizzazione invece la destra di oggi è Thatcher Reagan libero mercato liberismo diciamo l'ideale della Meloni non è Orban come dicono gli stupidi ma è la signora Thatcher no? solo che delle borgate arrivare a Downing è un po' difficile bisognerrebbe vestirsi un po' meglio però a parte queste robe qui quindi questo è un mondo che cambia ma perché? perché il capitalismo è ancora la sua grande cambia continuamente di forma e che cos'ha la base? lo sfruttamento del lavoro operaio e del lavoro intellettuale naturalmente adesso come vi potrebbe dire il presidente l'amico che mi ha presentato molto meglio di me lo sviluppo delle forze produttive che possiamo concentrare in una parola digitalizzazione abbassamento dei costi di transazione del tempo e dello spazio non è un abbassamento tragico drastico che può dare un'improvo alle piccole e medie imprese straordinarie perché dà loro la possibilità di superare il vincolo della grande dimensione per creare plus valore si può creare plus valore anche in cinque persone con un buon catalogo con delle buone idee vendendo prezzi molto alti e non corrispondenti alla quantità di lavoro che c'è messo dentro quindi il futuro delle piccole e medie imprese non della grande dimensione infatti se vedete negli ultimi 30 anni guardate le statistiche di Stigler eccetera e la dimensione media delle imprese capitalistiche continuamente scende scende poi ci sono i big però tutte le nuove terre capitalistiche producono il chioschito il petigno la petigna burguesia in Brasile eccetera la machiladoras c'è la riattualizzazione del lavoro domestico vedete i libri l'antropologia economica che ha scritto il titolo delle pagine bellissime io mi sono occupato molti anni di antropologia economica quindi naturalmente questo cosa fa reintroduce anche rapporti pre-capitalistici chi avrebbe detto che il capitalismo avrebbe reintrodotto il lavoro schiavistico oggi quelli che vediamo che girano in queste bici che vengono pagate un'ora all'uno sono degli schiavi con la differenza che lo schiavista si occupava della famiglia dell'occhiavo l'occhiavo doveva avere dei buoni denti doveva avere dei figli sani doveva avere delle mogli anche che sono belle perché potevano essere vendute anche loro all'occorrenza quindi si occupava della famiglia il neo Armani che oggi i giornali danno non certo lui che è una persona di grandissimo livello morale ma i suoi collaboratori della McKinsey o della Bocconi hanno scoperto che nelle periferie di Milano c'è un campo come quello che c'è a Foggia eccetera dove soprattutto cinesi malesi lavorano per fare gli articoli di lusso a un euro all'ora quindi vivono senza acqua a pochi metri da Milano dove tutti vanno in bici le signori di lusso che non hanno niente da fare vanno in bici allegri e sereni e votano sala e quindi che cosa è successo però che a un certo punto andiamo bene sì mi seguite no? sì no no può capitare di tutto può anche interdompersi la luce elettrica della mente e cosa è successo in questi ultimi anni? che il capitalismo ha riscoperto la guerra anche questa è una cosa noi eravamo convinti che la parte che l'Unione Europea si era creata sul fatto garantendo a tutti che tutti dicono abbiamo garantito la pace dimenticando le guerre barcaniche no? dimenticando i 30.000 maschi musulmani evirati con le scatole di conserva dalle donne dalle donne serbe no? a Sebrenica no? quindi messi in fosse comuni insomma e i bombardamenti nati nel 1999 quella condanna di Milosevic come criminale di guerra no? dei serbi che non sono novità i serbi sono sempre stati specializzati nell'impero oltrungarico nell'attacco di massa frontale no? sono sempre stati usati un po' come i marocchini nell'esercito francese e da Franco quando ha fatto l'insurrezione fascista in Spagna no? sfila a Madrid con le truppe marocchine no? quindi c'è una divisione del lavoro poi dopo nello sterminio che il capitalismo ha affidato ad alcune etnie anche da questo punto di vista bene si è scoperto che c'era la guerra che non viene più confinata nel conflitto della guerra fredda guerra di Vienna 53 guerra di Corea anche qui tutte le guerre si possono fermare basta trattare l'unico che ha capito benissimo questa cosa è il santo padre che ha detto alzate bandiera bianca che non è una resa trattare certo che se tu percepisci la guerra a somma zero che tutti devono vincere o tutti devono perdere non finirà mai tutti devono perdere qualcosa perché la guerra finisca quindi per questo è molto difficile per questo è importante le relazioni internazionali oggi purtroppo siamo in grave crisi infatti non si parla più di relazioni internazionali ma di geopolitica che è un termine un pezzo della geografia nazista degli anni 30 che però adesso è diventato in uso perché l'ignoranza è molto diffusa invece le relazioni internazionali sono l'uso della democrazia il cui maestro principe dopo Taylorin è stato Henry Kissinger basta leggere la storia di che Kissinger ha fatto il congresso di Vienna applichiamo quegli insegnamenti oggi e la guerra finisce in Ucraina ovunque basta negoziare e trattare bene si è scoperto che la centralizzazione capitalistica a un certo punto si spezza e arriva la guerra vecchi dibattiti nel marxismo internazionale a ragione Lenin o a ragione Kauski Kauski capo teorico della socialdemocrazia tedesca il capitalismo il grande libro di Ilferdin su capitali finanziari dove c'è la finanza c'è la pace universale infatti se voi leggete i grandi Carl Polany forse qualcuno di voi ha sentito questo nome Polany Polany diceva un secolo di pace garantito dall'alta finanza lui che aveva studiato il Domei l'economia morale in Africa dice però se guardiamo la finanza sì sarò qualche piccola guerra in Africa della colonizzazione la guerra anglo-boera però dal 1815 al 1915 c'è stato un secolo di pace nel mondo c'è stata la guerra la guerra fondamentale che ha cambiato il mondo qual è stata nel novecento la conquista da parte degli Stati Uniti di Cuba la fine dell'impero spagnolo è il fatto che gli Stati Uniti finalmente si siedono sui due continenti in mezzo a due oceani e il capitalismo americano dove andrà il mondo quindi il capitalismo è un meccanismo non solo economico ma è un meccanismo di relazioni internazionali questa è un'altra cosa che dimentichiamo perché la parola globalizzazione è ottunde è un po' come la geopolitica sono questi non concetti che invitano dalla non concettualizzazione alla semplificazione pubblicistica il mondo ormai anche gli intellettuali sono stati sostituiti dai giornalisti o dagli uomini di parola e relation questa è stata una cosa e non c'è più rapporto tra intellettuale e popolo perché il popolo c'è ancora ma gli intellettuali non ci sono più ci sono solo i bocconiani quindi o quelli che si lavorano in università americana dove se nuoti più veloce di un coccodrillo sei laureato e diventi anche dottor se poi sei anche bravo nella palla canelto diventi elettore questo è noto però queste cose sono cose che centrano molto sullo sviluppo capitalistico perché ti fa capire come il capitalismo non è uno strumento perfetto può allocare può allocare non solo la proprietà ma anche la direzione della proprietà in modo irrazionale a persone che non sanno condurre in porto e allora questo crea delle crisi di correnti di leadership che sono crisi anche di competenza il dominio dello scemo è sempre vicino la razionalità capitalistica è casuale il capitalismo genera caos crisi continuamente perché per fortuna perché non esiste un gruppo che domina il mondo queste sono visioni che conducono sempre al gruppo putarco massonico putocratico ebraico massonico la storia è un tunnel buio dove si udono solo grida e lamenti al fondo c'è una luce la presenza di Dio ma poi è tutto caso e la storia del capitalismo comprove esattamente questo quindi non siamo in un mondo ad azione infatti c'è la guerra Christopher Clerc adesso ha scritto un libro bellissimo che si intitola i sonnambuli dal libro di un grande libro di un grande romanzo di uno scrittore tedesco che spiega come si arriva alla prima guerra mondiale come come quello che è successo adesso per provocare la guerra genocidiaria dell'estremismo islamico contro lo stato israeliano le parti imperialistiche che non vogliono più come diceva Kowski la centralizzazione ma la crisi e l'aggressione usano dei nazionalismi armati per scatenare la guerra 1914 l'attentato della minoranza serba l'estremismo serba contro l'arciduca no? l'attentato che è ciò che cercavano per far crollare l'impero auto-ungarico la stessa cosa che dopo che si è fatto dopo l'ultimo G20 il trattato del cotone per cui bisognava sostituire la via della seta della via che partiva dall'India passando per la ferrovia non più quindi un addominio talassocratico fondato sul mare come quello che voleva la Cina e va invece una via di terra come quelle che volevano i tedeschi e i cinesi con un punto fondamentale per il trattato del porto di Haifa in Israele io dissi ci sarà un incidente che impedirà questa cosa perché non possono dare ad Israele un peso così importante perché vuol dire che il patto di Abramo si consolida e né l'Iran né la Cina né la Russia vogliono questo ci sarà assolutamente un incidente e infatti altro che incidente è il trattato un genocidio 1400 persone ancora una settimana dopo amici israeliani sono andati in quel luogo hanno trovato mani di bambini sugli alberi tagliati dai genocidiari antisemite quindi il capitalismo adesso da il volto espone il volto non solo della centralizzazione ma della crisi e poi c'è un'altra questione che la grande problema del capitalismo che ci fa capire perché non ci piace è che davanti a uno sviluppo prodigioso delle forze produttive per cui noi potremmo veramente fare come diceva il socialismo utopistico alla Forga alla Oven potremmo dedicarci o Mars anche a caccia e pesca leggere bisognerebbe essere colti non essere degli animali come la maggioranza dell'umanità di oggi non che guarda solo i social o gli influencer ma che ha il piacere di leggere di ascoltare Bach Mozart e non solo non solo la musica rap ecco bisognerebbe avere però potremmo veramente vivere grazie all'uso ordinato che le macchine gestite non più dalla proprietà privata ma da una proprietà common goods l'unico premio Nobel dato con intelligenza in quel suo diannato nel 2007 la mia amica morta ormai Elinor Ostrom che ha detto guardate che come dice anche Benedetto decimo sedicesimo della Caritas in Veritate la Caritas in Veritate è il più importante documento economico nel secondo dopoguerra dove dice ci sono diverse forme di allocazione dei diritti di proprietà privata pubblica common goods not for profit dove si dà un capitale di dotazione e non si non si retribuiscono più gli azionisti ma soltanto gli operai e i civil servants pensate che che rivoluzione sarebbe questo potremmo avere tutte le opere pubbliche governate da dei civil servants e non avere più azionisti quindi potremmo tutti dedicarci invece il capitalismo nella sua forma deteriore più avanzata tecnologicamente riproduce paradossalmente nonostante che abbiamo creato una filosofia del capitalismo benevolente della corporate social io so gravi responsabilità perché in Italia sono stato uno di quelli che più l'ha teorizzata in un periodo che è giusto è meglio un'impresa benevolente governata da corporate social responsibility che un'impresa non benevolente però non basta non è sufficiente bisogna riprendere in mano il discorso dell'allocazione dei diritti di proprietà i diritti di allocazione di proprietà privata su alcuni beni strategici dello sviluppo umano non può più essere privatistico ma deve essere allocato da un allocatore saggio di tipo common goods che ne assicuri la governance un po' come starei facendo qui un insieme di enti insieme di società che non devono rispondere al profitto ma devono rispondere alla soddisfazione degli utenti con una soluzione via noi italiani che siamo se uno legge Giovanni Montemartini la teoria della Giovanni Montemartini che non era un marsista era un neoclassico un allievo di Vixer assessore della giunta Nathan di Roma nel 1903 scrive questo libro magnifico io ci ho lavorato anni su questo l'economia dei pubblici servizi dove spiega benissimo questa teoria che è la teoria di Vixer che è la teoria del mondo cooperativo dell'impresa cooperativa che fosse applicata dai cooperatori in primo luogo e non da un'oligarchia che ha il nome di cooperatore ma non è altro che un insieme di capitalisti di pseudo cooperatori vogliosi di essere dei capitalisti sarebbe molto 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 utile quindi il capitalismo ha molte forme è un gigante nella produzione di opportunità di sviluppo tecnologico ma naturalmente è altrettanto un gigante nella creazione della disuguaglianza i dati parlano però perché? perché qui vedete c'è stata la grande con questo termino perché se no dico troppe cose e confondo la crisi 2007-2008 come sapete è stata una crisi di alta leva finanziaria è la famosa teoria del come si chiama lì del cigno nero che basta tutte queste cose che i giornalisti inventano per imbambolare quella cosa che ha provocato un'ondata di crisi finanziarie ma cos'è che provocava un'ondata di crisi finanziarie perché sono crollate le borse perché in gran parte le borse sono sostenute artificialmente cos'è il più grande cambiamento epocale nel capitalismo negli ultimi vent'anni è la trasformazione della teoria della public company in teoria della company governata dai manager stock opzionisti la retribuzione dei manager non è più affidata a un patto tra capitale e lavoro tra un gruppo di azionisti ma viene calcolata attraverso un sistema algoritmico tipo la storia intelligente artificiale che porta a generare delle crescite subottimali e superottimali dello stipendio dei manager oggi non c'è un top manager di una grande impresa che guadagni meno di 2-3 milioni l'anno quella che sia la performance purché il titolo in borsa salga voi capite bene che questo crea dei comportamenti opportunistici enormi se voi andate a vedere la quotazione della borsa più importante del mondo quella di New York il numero di compagnia quotate è sceso radicalmente ma ha aumentato il peso e soprattutto le company comprano azioni proprie perché fanno salire il valore perché? perché così aumenta lo stipendio dei top manager e il colpo io ho scritto un libricino 2007 appunto 10 regole del nuovo capitalismo che fu presentato alla fea di Francoforte uscito uscì da Bollati Boringhieri dove annunciò il colpo di stato dei manager stock opzionisti e questa è la radice della disuguaglianza non è non è la malvagità dell'uomo è la regola algoritmica governata da un gruppo di potere anche qui il capitalismo è un sistema di potere Brian Mills l'elite del potere libro insuperabile che spiega tutte queste cose qui Gaetano Mosca chi legge non si può capire il capitalismo senza leggere Vilfredo Pareto è Gaetano Mosca le grandi teorie dell'elitismo e della teoria dell'oligarchia le classi capitalistiche oggi non sono più i proprietari sono i manager stipendiati che vengono pagati con le azioni poi c'è la mirire di capitalisti di older time che vivono muoiono piccole imprese che hanno le piccole battagliette in confindustria tutta roba per chi non conta nel potere vince questo vince quell'altro tutte robe per i giornali per imbambolare la gente che ha tante altre cose da fare deve mandare avanti la famiglia deve fare il quadrato dei conti figurati si deve preoccuparsi di come funziona veramente il capitalismo poi non glielo racconta più nessuno perché ci sono grandi macchine ideologiche che raccontano un'altra storia che il capitale si forma con l'offerta con il risparmio dell'imprenditore con tutte queste fantasie neoclassiche dell'economia neoclassica che si insegna nell'università bene auguri grazie ci sono delle domande pronto sì professore io mi vergogno io mi vergogno a parlare non sono un economista ho letto qualche suo libro parecchio tempo fa e devo dire che per questo sono qua sono venuto ad ascoltarla vabbè comunque in questi giorni volevo farle una domanda fuori da un po' un po' marginale rispetto al discorso che ha fatto in questi giorni mi sono imbattuto sempre su youtube e queste cose perché non ho tempo per leggere nel fatto che gli Stati Uniti hanno un debito mostruoso superiore anche in proporzione a quello italiano e per una serie di ragionamenti che io mi faccio che probabilmente saranno sbagliati ma sarà lei a correggere mi sono fatto quest'idea che il capitalismo attualmente ha un grande interesse ha un grande interesse sì a far indebitare gli Stati perché in questo modo li rende deboli uno Stato si vede in Italia questo Stato la politica italiana praticamente è quasi inesistente perché è una politica senza soldi e quindi è una politica di sopravvivenza mi può aiutare a capire un po' questa cosa del debito pubblico degli Stati che si indebita del liberismo che dice non pagare cioè non far pagare le tasse e così via e così via tante tante grazie ne prendiamo più di una come vuole come vuole l'invito pubblico grazie buongiorno io prima dico la mia naturalmente vorrei sapere la sua riguardo due cose lasciando perdere il 5 stelle di Conte e andando a quello di Casaleggio io penso che i 5 stelle volessero superare il il fatto destra sinistra ed essere innovativi ma sono credo che sia sia stato perso con la morte di Casaleggio il motore e sia rimasto solo il tubo di scarico e mentre l'altra domanda sempre con la mia opinione a riguardo è quella del discorso che si sente tutti i giorni dappertutto dell'intelligenza artificiale quando non vogliono a mio parere quando non vogliono affrontare i problemi veri tirano fuori l'intelligenza artificiale infatti quello che è successo a Gaza è colpa dell'intelligenza artificiale e tutti si riempiono la bocca di questa cosa dietro la quale c'è comunque l'uomo che o fa giusto o sbaglia buongiorno vorrei aggiungere anche qualche osservazione Max Weber ha detto qualcosa a riguardo e quindi mi sembra giusto invocarlo poi c'è un capitalismo di stato c'è un turbo riguardo a cosa Max Weber ha detto qualcosa sulla teoria del dominio voglio invocarlo come teoria l'etica protestante del capitalismo e naturalmente c'è il capitalismo di stato c'è il turbo capitalismo c'è il capitalismo sociale Olivetti è un esempio quindi il mondo del capitale è un mondo molto articolato e frastagliato non dobbiamo come lei ha scritto la desgrazia prossima avventura dobbiamo vedere anche il bicchiere mezzo pieno del nostro capitalismo grazie bene possiamo cominciare a rispondere su questa cosa comincio dalla cosa più attuale meno anche molto ho conosciuto Casaleggio io perché nel 1966 a 19 anni sono andato a lavorare in Olivetti il capitalismo sociale grazie all'Olivetti dava il 5% di salario di salario in più ai giovani che si laureavano quindi io mi sono laureato mi pagava anche l'autobus da Ivrea a Torino per fare l'università quindi era un capitalismo sociale a Velgo Olivetti Casaleggio me lo ricordo che girava già con il cappello sempre in testa anche in fabbrica e fece amicizia con uno che è stato uno dei miei maestri a cui devo di più nella mia vita che mi presentò a Leni nel 75 e lì ho cominciato il mio rapporto scientifico poi da amministratore dell'Eni con Luciano Gallino che a quell'epoca lavorava anche sulla democrazia elettronica quindi temi che sono stati poi inverati da un filone di pensiero molto importante quindi a Casaleggio era un uomo a sé quello che è avvenuto dopo è stata un'altra è tutta un'altra questione che non si spiega tanto con la politica nazionale ma con le relazioni internazionali e con l'uso che i servizi segreti cinesi fanno di alcuni agenti che hanno in primo luogo Grillo che è notoriamente un agente di quel tipo che hanno creato sistemi anche che poi hanno avuto un peso elettorale molto molto importante quindi come diceva Gramsci forse il mondo di oggi è interpretato da quella lunga pagina dei quaderni del carcere di Antonio Gramsci dove descrivi la crisi organica del capitale la crisi organica delle società quando c'è che le società entrino in una crisi organica quando i partiti politici che sono non esiste la democrazia senza partiti come diceva Ostrogoschi in 1902 e poi che ha ripreso Gramsci che poi è ciò che pensava anche Pareto e anche Benedetto Croce in quegli anni in cui ci rifletteva su queste cose la democrazia si organizza attraverso i partiti se no c'è un rapporto diatico cittadino e leader se i partiti perdono il contatto col territorio con la realtà sociali se non sono più alimentate da comunità di Olivetti cioè dove gli interessi tacciano come diceva Alessandro Pizzorno grande sociologo italiano a livello mondiale e le solidarietà si attivano se non c'è questo non c'è la democrazia c'è un regime oligarchico diadico cittadino capo sia primo ministro presidente di Repoli ma un'altra cosa oggi siamo in un momento di crisi organica quindi il tubo di scappamento oggi è bellissima questa cosa qui il tubo di scappamento è una realtà prodotta dalla crisi organica che ci sono degli imprenditori politici non ci sono più i partiti politici io l'ho chiamato prendendo un vecchio libro di Joaquin Costa nel 1902 dove studiava il sistema politico sociale spagnolo la Spagna come loro sanno molto bene entra in crisi dopo la guerra di Cuba e produce dei pensatori meravigliosi Oltega i Gasset i Namugno tutti quelli che riflettono sul crollo dell'impero sono i pensatori che bisogna leggere oggi per capire oggi che l'Italia sta crollando che l'Europa sta veramente crollando non parlo dell'Unione Europea parlo dell'Europa l'Unione Europea non è l'Europa è qualcosa che si è messo sopra l'Europa è una cosa tutta diversa che è una forma della centralizzazione capitalistica che ha usato i regolatori francesi e il cameratismo tedesco per creare questa infrastruttura per centralizzare la comunità europea del carbone se non c'è io ci volevo fare l'Euratom l'unica cosa che ha funzionato è stata la PAC la politica agricola comunitaria che adesso anche questa è messa in crisi dai trattori quindi la crisi organica è attiva avete letto oggi il caso di Bari adesso è scoppiato anche a Torino naturalmente tutto scoppia prima delle elezioni oh non guarda caso perché è un fatto di crisi organica anche lì si scopre che non ci sono più partiti ma ci sono famiglie o singoli che agiscono per rimettere in moto il meccanismo ma veniamo noi è chiaro che ci sono tanti capitalismi io ho dedicato parte della mia vita a dire che ci sono diversi capitalismi il capitalismo nordamericano cinese è tutto diverso dal capitalismo nordamericano nel suo stato puro il capitalismo si modella sulle forme sociali che trova il rapporto merce denaro merce non è astratto come voglio dire come io ho fatto prima l'esempio della pandemia ma mi rendete conto che sono riusciti a fare il capitalismo proprio di Max Weber dove si pensava che non potesse mai essere fatto in India in India mica c'è quello che diceva Max Weber sbagliando perché una delle terre più capitalistiche è la Lombardia dove il protestantesimo non c'è mai stato c'è stato un po' di jansenismo come ci dimostra Manzoni eccetera ma proprio dove siamo più cattolici è stata il capitalismo nelle campagne nasce in Lombardia nelle marcite ancora adesso in Italia 65% della produzione agricola si fa non al sud in Lombardia grazie allo sviluppo capitalistico quindi come gli disse Turch Weber ha scritto le cose bellissime sul potere ma sul capitalismo era un po' debole perché lui aveva studiato soprattutto le società antiche lui nasce come storico delle società antiche ed iscrive delle pagine meravigliose sul capitalismo moderno era un po' deboluccio però tutti vorremmo essere deboli come lui saremmo decidanti quindi ci sono varie forme di capitalismo pensate che in India c'è la società in classi io ho studiato molto antropologia economica ho avuto dei miei vecchi studenti che poi sono diventati ricercatori che hanno scritto delle tesi e dei libri sui Bahalla ad esempio voi saprete tutti che alla borsa di Bombay una cooperativa di intoccabili di gente che non potrebbe toccarvi in India se siete guerrieri o bramini o delle classi intermedie e dato che cosa fa trasporta dai dieci ai ventimila pasti fatti dalle famiglie di coloro che lavorano alla borsa di Nova Delhi e di Bombay perché voi sapete che devi portare quel cibo lì e non un altro gente analfabeta si organizza per portare bene questo sistema di caste dove tutti sono uno diviso dall'altro ha creato un capitalismo portentosamente si è sviluppato adesso vanno sulla luna quindi quest'idea che il capitalismo sia solo uno solo l'Africa è sull'orlo di uno sviluppo capitalistico immenso perché si stanno liberando di un eccessivo peso del capitalismo francese la fine dell'impero francese che è avvenuto adesso quando è finito il franco africano i francesi avevano molto meno deboto pubblico perché lo scaricavano quasi tutto sul peso delle colonie francesi perché c'era il franco africano quindi scaricavano una parte del loro debito quindi è una roba geniale della regolazione miterandiana e di Jacques Delors che viene presentato come un socialista accidenti erano dei neocolonialisti in cui confronti De Gaulle era Carlo Bars rispetto al problema del colonialismo quindi il capitalismo ce ne è molti ed è la ricchezza dello studio dell'economia se si intreccia con l'antropologia e la sociologia la laurea più facile da prendere è economia sono quattro balle uno medio dotato si laura in economia in un momento infatti e per quello c'è grande successo poi le mamme pensano che se il figlio si laura in economia troverà un lavoro illusione produce solo dei coglioni in generale laureati in greco in latino o in filosofia e avrete il mondo nelle mani perché con un po' di leggendo 4-5 manuali capirete tutto quindi anche qui il capitalismo ci insegna molte cose se lo osserviamo avere una mente aperta perché è un sistema aperto che si è modellato su tutte le società debito pubblico anche qui nelle biblioteche c'è tutto Michael Kaleski qual era l'economista più amato da Raffaele Mattioli tutti sapete chi era Raffaele Mattioli il grande capo della banca commerciale si è creato un mito però era un uomo che ho fatto il direttore della biblioteca Raffaele Mattioli per un po' di anni o il conservatore l'economista che leggeva di più è un economista polacco lo leggeva in inglese Michael Kaleski post-marxista post-keynesiano ha avuto un grande allievo che ha insegnato a Bergamo è morto a Bergamo Minsky per capire il capitalismo di oggi bisogna leggere Minsky tradotto a Deinaudi una bellissima introduzione di Pierluigi Ciocca che era stato lì per diventare governatore della Banca d'Italia per un po' poi è arrivato i seguaci di Ciampi quindi in ognuno ovunque arrivi a Ciampi il livello intellettuale si è bassa e tutto diventa segatura anche il legno più pregiato bene che cosa spiegava Kaleski dice il debito pubblico innanzitutto il debito pesa se non si trova qualcuno che lo renda solvibile l'Africa adesso perché nel 2000 il club di Parigi forse l'avete seguito nel 2010 ha reso irredimibile il debito degli stati africani perché è chiaro se si vuole continuare a fare capitalismo bisogna togliere il debito dagli stati che non possono più fare nessun investimento in infrastrutture quindi l'accordo delle banche centrali e delle grandi banche Banca Morgan tutte le grandi banche private Pichet eccetera tutte queste banche Goldman Sachs eccetera hanno dichiarato solvibile il debito africano non c'è più poi hanno spinto perché si creasse un'unione degli stati africani hanno risolto il debito della Nigeria perché poi l'Africa sono quattro stati Marocco Egitto Nigeria e Congo tutto dentro sono frattaglie economicamente ma è lì che si decide il destino economico politico sociale lì ci sono le risorse lì ci sono le classi dirigenti e lì al cuore di tutto questo c'è il Kenya ricordatevi bene tre cose hanno cambiato il mondo il cristianesimo o la tradizione giudaico cristiana perché ha fondato l'idea di persona l'impero britannico perché dove è passato si è creata l'imperio della legge la common law e poi dopo naturalmente le multinazionali sì ogni tanto fanno dei colpi di stato non va bene però hanno portato medicine elettricità in tutto in tutto il mondo se oggi ci curiamo dalla pandemia perché ci sono le multinazionali i vaccini eccetera quindi non si può essere anticapitalisti senza trarre la cosa buona dello sviluppo tecnologico e umano che ha portato il capito il debito pubblico si crea dal fatto e viene usato politicamente come ci spiega Kaleski per abbassare i salari qual è il modo per ridurre il debito pubblico qual è e diminuire la spesa pubblica aumentare le tasse e quindi aumentare le tasse ma io posso aumentare le tasse se combatto l'inflazione l'inflazione pensi che c'è gente che oggi crede ancora nella teoria monetaristica che l'inflazione deriva dall'aumento dei salari ma questa è stata contraddetta dalla pandemia perché che inflazione è questa qui è un'inflazione di aumento dei salari per carità i salari da 30 anni scendono continuamente in tutto il mondo e inflazione da carenza di offerta produciamo poco materie prime che sono utili per la produzione quindi costano di più energia Watson le sanzioni economiche imposte dagli Stati Uniti alla Russia hanno come mira la Russia ma per carità la Germania perché la Germania viveva aveva costruito la sua grande potenza economica grazie all'accordo energetico con la Russia e quindi dato che il capitalismo tedesco è la base del capitalismo cinese bisognava colpire la Cina infatti adesso vedi hanno esagerato adesso la Yellen è andata in Cina gli imprenditori sono andati in Cina e dicono non decapling ma de risking non romperci le scatole su alcune cose sulla sicurezza nazionale Microsoft eccetera eccetera terre rare che poi le terre rare ce n'è in Sud America non finire è tutta una balla che ce l'hanno i cinesi è un'infezione propagandistica le terre rare sono nel deserto salato di Juhoi tra la Bolivia e il Cile tutte le storie in Australia ce n'è io ho insegnato in Australia per alcuni anni in Nuova Zelanda c'è terre rare a non finire certo che anche lì capitalismo prima che quelle terre rare siano profittevoli ci va un investimento di alcuni anni che produce debito pubblico il capitalismo privato non lo può da solo in Australia lo Stato finanzia l'investimento minerario ovviamente poi ti scontri il fatto che l'investimento minerario oggi nella cultura dominante non è ecologico allora quindi insomma le terre rare servono per la transizione climatico-energerica però bisogna scavarle e producono cancro quindi cioè tutto il mondo è molto complicato ma è la bellezza del mondo e anche del capitalismo quindi la roba del debito pubblico è una favola gli Stati Uniti come fanno ad avere tutto il debito pubblico? perché tutto passa attraverso il dollaro e tutto passa attraverso la forza militare se tu hai il potere militare degli Stati Uniti ma che te ne frega di avere il debito pubblico? ma che si oserà mai di chiedere di chiedere di saldare il debito pubblico agli Stati Uniti ma nessuno quindi è è un'invenzione insomma l'economia è dominata dall'uomo come l'intelligenza artificiale come diceva il nostro gentile interlocutore qui il professore il presidente potrebbe farci una lunga lezione io non dico niente ma non è altro che un'intelligenza allargata certo se poi viene posseduta da delle imprese capitalistiche fanno quello che loro serve per quello dovrebbero essere possedute dall'entità not for profit questa è l'era del not for profit le grandi multinazionali del digitale dovrebbero essere possedute da enti not for profit su cui abbiamo una teoria molto sviluppata sarebbe ideale perché non si remunerano gli azionisti ma solo l'innovazione è solo che tutti sono lì che parlano e la proprietà è il nesso il nesso il chiave di tutto se non è inutile parlare di capitalismo parliamo di moda se non ci sono altri interventi il presidente ecco io avevo una domanda che riguarda il rapporto tra capitalismo perché per una parte del discorso hai descritto il capitalismo come molto legato all'economia reale lo sfruttamento del lavoro che sia digitale però c'è una parte di capitalismo che io fatico veramente a capire che è quello finanziario sono le bolle finanziarie che non hanno niente gli anni inizi 2000 c'era la bolla della e-economy che non aveva alcuna attinenza con la new economy anzi più perdevano le società di quell'epoca più capitalizzavano sulle borse ecco lì come la vedi e qual è il futuro cioè a me sembra anche gestito avendo gestito per anni una istituzione che è finanziaria nella sua matrice mi sembra veramente difficile da leggere in termini cioè il raccordo tra economia finanziaria e economia locale e quanto questo è critico nello sviluppo diciamo di un capitalismo sano no? è in grado di rispondere all'esigenza a cui poi comunicare la comunità a cui si rivolge posso rispondere subito vediamo così questa è la domanda che mi aspettavo perché è la parte che non avevo sviluppato lì anche lì nel biblioteco c'è tutto il libro di Schiller premio Nobel questo anche l'irrazionale esuberanza borsistica chiaramente la rivoluzione del 2007 2008 che si fonda anche qui c'è la teoria a un certo punto come voi sapete ma poi devo dire una volta tanto la filmografia americana ha prodotto dei capolavori ci sono questi film su Wall Street di cui uno è quell'attore famoso non ricordo mai il nome ecco di Caprio poi ancora uno prima di Douglas un certo che faceva i finanziere molto molto interessanti molto storiograficamente io infatti i miei studenti sono andato in pensione sette anni fa ma all'epoca gli dicevo andate al cinema andate a vedere queste cose qui che erano veramente importanti è come leggere Madame Bovary se non leggi Madame Bovary non capisci come nasce la borghesia francese non voglio dire c'è la stessa cosa quei film ti spiegano che cosa c'è c'è che a un certo punto il capitalismo governato dai nuclei duri modello medio banca in Italia una banca di affari di tipo anziano di vecchio tipo quella di Mattioni medio credito banca commerciale ma soprattutto medio banca creata all'epoca dallo stato fascista che aveva dei capi importantissimi diciamo beneduce che aveva due figli uno si chiamava idea socialista l'altro Italia libera quindi erano dei massoni risorgimentali erano la grande massoneria diciamo mazzignana mazzignana caribaldina e naturalmente quando arriva la grande crisi che cosa fanno la grande crisi fanno quello che fanno i new deals i new deals nazionalizzano creano liri e limi limi per le banche però creano anche un istituto per finanziare e sorreggere il capitalismo privato la domanda sul debito pubblico la cassa depositi e prestiti all'origine che c'è in tutto il mondo un tempo c'era una banca la banca nazionale del lavoro un tempo i comuni non erano mai senza mai indebitati perché c'era una banca nazionale pubblica che gli pagava i debiti perché si pensava che il comune fosse un ente pubblico dell'economia oggi i comuni sono pensati nella contro rivoluzione liberista che inizia a metà degli anni 80 del novecento sono pensati come imprese e quindi vanno dal culo no? perdon e quindi entrano in crisi e si distruggono oggi non ci sono più segretari comunali ci sono i city manager c'è una follia no? come dopo la famigerata legge Bassanini non ci sono più i direttori dei ministeri ma ci sono i direttori dei ministeri assunti a sei mesi un mese qui prendono uno stipendio e poi scappano e vanno via mentre lì io ho soltato nove anni in consiglio dell'Enico Monorchio e la ragioniera generale dello Stato un gigante capivi che lo Stato era tenuto insieme da queste persone qui Cuccia Monorchio che tenevano in piedi lo Stato perché sapevano tutto conoscevano tutto non erano come Bassanini che prende i soldi e scappa con la legge Bassanini segretario comunale di Torino io sono andato a Torino Ivrea era uno che sapeva tutto del comune nato e morto lì avremmo mai preso un'alire in più adesso ci sono i city manager capisci che cazzo che sta un po' marsala poi va Trapani poi va Cuneo tanto per dirmi come vario il capitalismo e quali danni si è fatti uno dei danni è stato di dividere la finanza dall'attività industriale che non c'era mai verificata il grande sor il grande sviluppo il grande come dice Big Spur per dire nella lingua delle scimmie l'inglese non nella lingua della cultura il francese a parte Shakespeare qual è stato il grande cambiamento quando a un certo punto non ci sono più le banche d'affari che investivano nelle industrie ci sono le banche che producono denaro dal denaro non dalla circolazione della merce è la domanda che mi hai posto che sono banche potentissime Goldman Sachs un tempo finanziavano gli stati adesso chi finanziano se stesse e i manager che artificialmente creano la valorizzazione delle azioni la famosa teoria dei multipli tu crei delle società che valutano le varie crei dei veicoli finanziari le special purpose entity dei veicoli che sono lei mi dia il suo patrimonio io glielo faccio compri grano merci una volta si comprava grano e si speculava su queste cose guarda il petrolio adesso no si comprano che cosa si creano degli strumenti si chiamano derivati che se tu fai un prestito ti fai dare un prestito poi ti vendono un'assicurazione sul fatto che tu non possa pagare il prestito e quindi che sale attraverso creando la famosa quotazione pensate che cos'è una quotazione in borsa voi non so se avete eseguito anni fa ci fu uno scandalo mondiale di cui non si parlava in Italia la quotazione della Saras della famiglia Moratti adesso è stata venduta a un gruppo sconosciuto di cui non conosciamo chi sono gli azionisti perché è una società lussemburghese ma quotarono la Saras appena la quotano il titolo scende è tanissimo perché generalmente se tu la quoti la sostieni hai già qualcuno che ne compra un po' per farlo salire no però hanno raccolto lo stesso un po' di soldi e poi dopo l'hanno ritratto cosa hanno fatto hanno fatto un prestito gratuito gli altri sono rimasti con un pugno di mosche ma loro i soldi li hanno presi questo è stato un esempio che per un periodo si studiava poi hanno ottenuto quelli che si occupano di pubbliche relazioni di togliere dei case study di Harvard perché non era fine meglio così perché se no ci sembra che queste cose si facciano solo in Italia mentre sono all'ordine del giorno in tutto in tutto il mondo allora questo capitalismo finanziario crea denaro dal denaro che non è una novità c'è sempre stato io ho introdotto adesso ho fatto un'introduzione a una nuova edizione di un libro meraviglioso che è la storia monetaria dell'Europa di Marc Bloch Marc Bloch è il grande il tudioso francese di storia mediovale poi è stato ucciso dai nazisti durante la resistenza francese del 44 che è un gigante quella che ha scritto quel libro sul medioevo il famoso libro sui reti armaturgi e lui ha scritto questa storia monetaria dell'Europa unendo storia monetaria storia economica dell'economia naturale dell'economia monetaria con tutto il sistema di potere che c'è della cognazione della moneta il problema lì è che questo è possibile perché lo Stato non controlla più le emissioni di denaro quindi anche le emissioni di denaro la quantità di denaro è devoluta al privato questo è una pericolosità enorme che prima chi emetteva denaro era solo la banca centrale adesso tu emetti denaro simbolico che sono i titoli che possono crescere su e giù quindi è una cosa che può andare a finire bene che tu puoi con quello che guadagni puoi utilizzarlo per dire che so per dare la possibilità ai produttori di coca di coca non di cocaina ma di cacao penso in inglese di finalmente non esportare il cacao greggio in Europa ma di costruire con questi soldi finalmente una fabbrica che lo produca nel cacao che usiamo per fare il cioccolato sarebbe un uso ottimo di questo capitale finanziario il problema non viene usato viene andato in giro per il mondo finché salga anche le criptovalute sono poi queste le criptovalute non sono che la manifestazione di una cosa che funziona già con la moneta solo che lì sei più libero perché c'è un sacco di gente che è così cretina da credere a coloro che le vendono e quindi questo è il vero cambiamento che è avvenuto in questi anni nel capitalismo la finanziarizzazione del capitalismo e la separazione sottolineo della massa monetaria della finanza dall'economia reale prima le banche si preoccupavano di difendere il risparmio e di investire adesso fanno parte del gioco borsistico e questo è stato l'elemento hanno separato non a caso tutte le attività rivolte alla beneficenza all'investimento reale da una parte le fondazioni si dedicano non solamente non hanno fatto i conti poi con la con la differenza di di potere nella centralizzazione capitalistica noi ogni giorno sentiamo le banche locali italiane che si lamentano delle regole che gli dà la BCE perché la BCE è dominata dalle banche dedelche e quindi ha scritto un regolamento che è ideale per difendere le banche franco dedelche e le altre banche e il fatto che l'elemento del potere quindi lì Max Weber Ray Mills eccetera sono molto importanti per capire questo capitalismo anche la borsa sono stato sufficientemente chiaro altre domande non ci sono altre dal pubblico ne ho una io direttamente allora in questo periodo mi sto un po' interrogando sull'elemento di fondo diciamo dell'età contemporanea quindi dell'età contemporanea diciamo se vogliamo prendere 8 e 900 per intenderci l'arte contemporanea dell'età contemporanea e la sensazione è che diciamo questa età contemporanea è sostanzialmente caratterizzata da una cosa che il caro vecchio Marx aveva capito benissimo e che è passata un po' di moda nel sentire comune cioè nel conflitto tra capitale e lavoro un conflitto che chiaramente è stato vinto a più riprese dal lato del capitale tranne quella piccolissima fase che io considero un po' una parentesi dell'immediato secondo dopoguerra quindi del periodo tra diciamo la ricostruzione e gli anni 60 e la cosa su cui molti si interrogano ultimamente è se c'è una speranza un'alternativa possibile per diciamo invertire questo senso di sconfitta del lato del lavoro che costituisce di fatto la maggior parte della popolazione del pianeta al di là di tutte queste retoriche che appunto hanno comunque creato un'egemonia negli ultimi 30 anni e che hanno dato un po' l'impressione che non ci sia un altro mondo possibile per usarla è un po' uno slogan che andava di moda qualche tempo fa e che però anche lì ha trovato molti limiti poi nella sua applicazione e quindi ecco la mia riflessione la mia palla in tribuna dell'ultimo momento era un po' legata a questo beh è una domanda molto difficile e molto chiama la palla in tribuna questa è la domanda delle domande vede si potrebbe dire è una lunga storia ma c'è stata una guerra quella che si chiama la guerra civile europea 1917 d'accordo non d'accordo l'unione sovietica il partito bolshevico una scissione del partito social democratico russo prende il potere in Russia in Russia azzarista perché c'è la guerra perché c'è la guerra c'è la guerra capisce che bisogna armare bisogna garantire che i soldati ritornano in Russia conservino le armi bisogna armare gli operai non bisogna occupare le fabbriche ma occupare il ministero degli interni e le cose più fondate e prendere il potere e naturalmente in uno dei paesi che era insieme più avanzati del mondo come cultura scienza di Agilev l'ermitage l'aristocrazia russa che ha prodotto quello di più tra le cose più importanti dell'8-9-100 e poi però il sistema arretrato la chiesa ortodossa che vediamo ancora adesso che cosa produce nell'appoggio a Putin con queste parole della guerra santa cosa incredibile e si crea l'Unione Sovietica e lì comincia la guerra civile del capitalismo mondiale contro l'Unione Sovietica elementare Watson naturalmente il capitalismo si arma per eliminare io sono un vecchio trotschista io ho sempre l'Unione Sovietica non creano il Stato Socialista ma questo elementare Watson che non lo crea non può crearlo voglio dire lei ne è subito consapevole infatti cosa fa appena prende il potere dice beh bisogna fare la nuova politica economica la NEP fare entrare i capitalisti che sono pochi non tanto nel partito dargli la possibilità di un partito naturalmente questi poi non vogliono è la cosa che passa in Cina no? Xi Jinping cosa sta facendo? sta ammazzando secondo i dati della National Security Agency che vengono pubblicati ogni anno con l'IFRI l'istituto di francese dell'Asione internazionale sono le cose più intelligenti da leggere per capire com'è nel mondo pare che abbia eliminato fisicamente tra torture e esecuzioni capitali dai 400 ai 600 mila quadri del partito beh per lì sono un miliardo però ha fatto entrare nel partito dai 70 agli 80 milioni di capitalisti li mette nel partito e poi ogni tanto ne prende uno e lo fa sparire come quello di Alibaba cerca di metterci un grande economista sociologo Zheng Yang Zheng che ha scritto dei libri che sono usciti da Cambridge University Press adesso ha dei problemi perché il servizio segreto cinese dopo che insegnava a Singapore un allieva cinese l'ha denunciato di harassment e allora questo l'ha segato fuori l'hanno espulso quindi non può più usare i dissidenti in un altro quindi adesso usano anche quel tipo ma se voi leggete i libri di Zhang Zhang Zheng vedete come funziona il capitalismo cinese anche la Russia era un capitalismo però un capitalismo monopolistico di Stato governata dal partito naturalmente questo capitalismo monopolistico di Stato che ha un grande essor quando dopo la seconda guerra mondiale chi vince la seconda guerra mondiale in Europa gli americani o i russi i russi no? chi arriva a Berlino? Stalin e arriva Stalin ed è così tronfio che se ne frega del trattato di Yalta la Cecoslovacchia se voi andate a vedere Treblinka che è uno di questi terribili campi di concentramento non esiste più niente vedete che dopo Treblinka c'è un cimitero americano quindi vuol dire che gli americani erano arrivati lì quindi la Cecoslovacchia dovrebbe essere data all'occidente Stalin se ne frega c'è una lunga tradizione russa che inizia nell'ottocento ti fanno arretrare avanza i russi hanno sterminato a 30.000 quadri dell'esercito della diplomazia polacca il famoso Verica che hanno fatto credere che fossero stati nazisti invece erano stati loro eh? Katlin no? Katlin tanto che loro volevano la Polonia quando ho visto che quindi per possedere la Polonia hanno terminato tutto il gruppo dirigente Putin non fa che continuare questo però l'Unione Sovietica si presenta a loro come un porto dove non c'è più il capitalismo e quindi c'è una guerra civile che alcuni lo chiamano una guerra civile mondiale guerra di Corea nel 1953 guerra del Vietnam quando crolla l'Unione e quella roba lì per molti per i partiti comunisti internazionali molto diversi gli italiani e i francesi diversi da quell'inglese che era molto più filosofo pensavano che lì fosse una possibilità di inverare un nuovo sistema economico quando l'Unione Sovietica crolla il capitalismo non ha più freni il capitalismo gira nel mondo senza mutande con i genitali esporti dice che il capitalismo sarà eterno e durerà sempre non a caso dopo il crollo dell'Unione Sovietica inizia l'era del capitalismo finanziarizzato non c'è pietà per nessuno amica mia la storia è la storia gronda di sangue crollato l'Unione Sovietica era sbagliato benissimo io sono un vecchio trotskista poi non ho mai pensato che Stalin era un dittatore brutale Mao poi era un leader populista contadino però avevano sterminato i capitalisti per il proletario di tutto il mondo era un passo avanti parlavi con l'operaio parlavi con poi sì c'era quello più corto dice ma una dittatura non va bene una cosa sì va bene la dittatura non va bene però non c'è più il capitalismo tutti avevano un tetto io in Russia mi sono andato io ho fatto 20 anni direttore della fondazione Fertinelli mi ricordo quando eravamo con la fondazione Ebert dei socialdemocratici gli ultimi anni andavamo in Russia si vedeva che crollava i socialdemocratici erano terrorizzati io ero tutto contento ho detto beh ci sarà speravo ci fosse un'alternativa riformista no Gorbaciov che si tenesse il buono si buttasse via il cattivo a cosa i campi di concentramento viva Sakharov viva il dissenso purtroppo non è andata così perché ha vinto il peggio ha vinto che cosa dato che volevano prenderci tutto con Helsing con la corruzione non vi ricordate la figlia di Helsing aveva un cane una collana di diamanti sono arrivati i grandi finanzieri Goldman Sachs Jerry V. Sachs questo mascalzone che è andato in Russia hanno privatizzato tutto a Gogò a un certo punto il KGB ha detto basta gas e petrolio no non lo vendiamo perché? perché è la potenza militare il gas e il petrolio allora ha detto no è venuto fuori uno piccolino che si chiamava Putin gli Slovorskini quelli del KGB che erano la gente più intelligente quelli che non volevano invadere l'Afghanistan hanno detto ma cosa volete invadere l'Afghanistan ma siete pazzi a Dropof era contro Presnev ma vuoi invadere ma sei matto metterti nella gara gli inglesi hanno combattuto in Afghanistan due secoli sono sempre stati i confitti è l'armata rossa quindi crollato l'Unione Sovietica purtroppo sbagliato o no il mondo è cambiato sembra che non ci sia più speranza e invece bisogna continuare a vedere che ovunque c'è una possibilità esiste quando esistevano ancora le cooperative e quelle poche cooperative che ci sono che ancora funzionano come tali il mondo funziona meglio c'è lavoro per tutti si cerca di pagare poco poco ma bene il cooperatore si autosfrutta prende un po' meno di salario assieme ma pur che l'impresa vada avanti in Africa in Asia la speranza di creare come i grandi pensatori come Adriano Olivetti che poi non faceva che prendere un pezzo della mistica ebraica e del pensiero cattolico di Mugnier e di Maritain e lo trasferiva il libro più attuale è personalismo comunitario di Manuel Mugnier il grande pensatore cattolico francese che ti dice si può difendere la persona in un'economia comunitaria non capitalistica il problema è il Tato vede amica mia che è lì l'influenza sovietica dei cattivi pensatori che fosse lo Stato la soluzione non è mai lo Stato è l'auto-organizzazione Mars nel programma di Gota polemizza contro i socialdemocratici tedeschi con la Sala se guardate che lo Stato deve è l'auto-governo dei produttori il socialismo non è lo Stato come ha voluto fare l'Unione Sovietica statizzare certo che per l'auto-governo dei produttori bisogna essere in grado di auto-governarsi quindi il socialismo io però morirò socialista ma io a me non me ne sbatte io sono un vecchio cattolico cioè morirò cattolico e socialista e comunitario perché non si può arrendersi davanti alla storia perché la storia la facciamo noi con le nostre volontà e quindi è chiaro che speranza c'è quasi nessuna nei prossimi vent'anni non c'è un cazzo di speranza ti è tranquillo no nei prossimi vent'anni finché avremo in giro Scholz in Germania Macron ma come vuoi pensare che il mondo va davanti con un Macron uno dalla collocazione biologica indefinita che si mette dei parrucchini che lavora per la banca Rothschild poi viene lì e distrugge ma cosa vuoi che cosa vuoi che ci sia speranza no però però c'è ancora un sacco di gente che fa dei sacrifici per mandare i propri figli per c'è quella della gente che lavora per aiutare gli arziali in fondo ci siete anche voi che ci sia ancora attività come queste che sono gestite dal pubblico privato che si occupano dei bambini che si occupano vuol dire che non tutto è ridotto a scambio io quello che dico bisogna affermarsi tutto c'è anche uno scambio non solo economico c'è una relazione morale questo guardi che è ancora molto diffusa quindi diventerà difficile tornare alla politica perché per fare quello che vuole lei ci va il sindacato no? partito sì ma ci fossero ancora i sindacati perché guardi un partito senza legati un partito che si occupi di chi lavora senza un sindacato non può esistere gli inglesi adesso si sono perché gli inglesi dicevano i laburisti forse vincono le elezioni perché perché finalmente hanno capito che Blair era un mascazzone no? perché aveva rotti il legame con le tre dunios partito al laburista senza le tre dunios non è niente adesso questo nuovo sì è vero è un fighetto però si è messo d'accordo con le tre dunios con i sindacati guardate che noi siamo il partito che vi rappresentiamo ditemi cosa volete io cercherò di far passare queste leggi eh speriamo lo so lo so e poi sai non tutti sono perfetti in Grecia hai visto che è successo in Grecia adesso anche questo nuovo di Tsipras è uno che viene dalla banca d'affare bisogna accontentarsi di quello che passa al convento ma è importante che il convento ci sia adesso bisogna ricostruire il convento la prima cosa qual è la teoria bisogna ritornare a leggere delle cose giuste in fondo l'inquisizione non aveva parlo dei libri non della tortura non aveva tutte idee sbagliate che diceva libri da leggere e da non leggere no? ci sono dei libri che meglio non leggere no? non so anche parliamo di cosa esce perché avete visto quanti libri escono no? e quanti lettori diminuiscono i libri il mio dovete leggere ad esempio questo mi pare evidente questo scusate dimenticavo questa piccola cosa sono l'editore Guerini poi il mio dovete assolutamente leggerlo e perché imparate un sacco di cose anche io con voi naturalmente tramite il metodo psichico ma bisogna ricominciare a fare delle buone letture e soprattutto i professori devono ricominciare a fare i professori e dire le cose però io non sono così disperato hai capito? a lavoro e alla lotta volevo sollecitare un applauso ma è stato autonoma e volevo è molto piaciuto devo dire sia per la profondità del pensiero e sia anche lasciatemi dire perché finalmente abbiamo lasciato un po' a casa la political correctness abbiamo detto le cose come le si pensa grazie davvero grazie